Il sole non tramonta mai e tutto si illumina. Il porto turistico marina di Cala del Sole rappresenta un vero e proprio punto di arrivo per chi attraversa il Mediterraneo. 1.500 posti, barca, servizi di eccellenza, aree commerciali, intrattenimento. Tutto grazie all'impegno e alla costanza di un imprenditore, lui è Luigi Geraci. Lei ha investito in tasca propria, non ha avuto contributi pubblici. Perché, le chiedo, ha voluto investire in questa struttura? Intanto, credo principalmente nello sviluppo del turismo e che la Sicilia, per poter pensare al futuro, deve guardare al passato. Il proprio passato è fatto anche di portisti o dei turisti tipo Ulisse, che sono rimasti dieci anni intorno alla Sicilia a navigare. Chissà che fosse per non andare a trovare Penelope, oppure perché era innamorata della bellezza della Sicilia. Molti altri prima di noi si sono innamorati alla Sicilia. Noi siamo i figli di quelle civiltà che si sono sviluppate sul territorio e conseguentemente dobbiamo cercare di valorizzare ulteriormente questo territorio, pensare al passato per poterci proiettare al futuro. A Gela d'anni oramai si parla di porto e degli interventi da mettere in campo a seguito dell'inseppimento. A Licata invece si è agito quasi un altro mondo e siamo distanti appena a 32 chilometri, mezz'ora di strada. Tutta la costa, specie la costa del sud della Sicilia, è una costa che merita una particolare attenzione, un particolare sviluppo. Le singole città non dovrebbero sentirsi meno mate perché non viene realizzata una struttura, perché ciascuna delle nostre città sul mare hanno delle eccellenze che se le mettessimo tutte in rete farebbero veramente la ricchezza dell'intero territorio, dell'intera Sicilia. Cale del Sole offre sì l'opportunità di poter attraccare qui e di avere una serie di servizi, ma vuole essere un esempio e un invito anche al territorio che ci circonda di emularci, di poter copiare dal verde, dall'attenzione agli stranieri, dalla pulizia, dalla cura. Basterebbe poco perché la Sicilia è tutta bella, però dovremmo essere noi siciliani e essere più disponibili ad accogliere e a rispettare le persone che vengono da fuori. Ma mai pensato di puntare anche a Gela lei? Beh, io penso che noi apparteniamo al Golfo di Gela, non c'è da puntare su Gela, c'è da estendere il concetto di turismo anche a Gela, anche a Vittoria, anche ad Agrigento, anche a Porto Empedocle. Non si può dire facciamo un altro porto, la duplicazione delle strutture credo che quando sono troppo vicine è un male, quando sono a una distanza di circa 30-40 miglia l'una dall'altra, allora due porti ne possono fare anche tre. Marina di Cala del Sole, qui è vero, il sole non tramonta mai. In questo territorio circa 310-315 giorni l'anno sono sempre coperti dal sole e non dalle nuvole, come in tanti altri porti come in Croazio e in altre parti dell'Europa. Grazie a tutti.